Mania, nel cervello la mania Dopo aver attirato 150.000 spettatori nei teatri di tutta Italia, il musical Frankenstein Junior, tratto dal cult movie di Mel Brooks, torna in tour per la terza stagione consecutiva, diretto da Saverio Marconi con la regia associata di Marco Iacomelli, il musical ripropone il film che nel 2014 compie 40 anni sul palco. Alle scenografie gotiche in bianco e nero sostituisce i costumi colorati dei protagonisti, musico e numeri divertenti accompagnano la storia, tra i pezzi forti il numero tra Frankenstein e il mostro sulle celebri note di Putin on the Ritz di Irving Berlin. Nei panni del protagonista, il brillante e stimato dottor Frederick Frankenstein, che al cinema fu Gene Wilder, resta Giampiero Ingrassia, che per questo ruolo ha vinto il premio Flaiano 2013. Giulio Ottonello e Elisabeth, viziata ed egocentrica fidanzata di Frederick, il servo fedele interpretato da Mauro Simone, altea russo la governante misteriosa Frau Blucher e Valentina Gullace, l'assistente Inga. La stagione si inaugura il 18 e 19 ottobre a Senigallia per un riallestimento, poi il tour tocca Palermo, Catania, Bologna e Firenze e dal 15 gennaio 2015 torna a grande richiesta al Teatro della Luna di Milano.